ciao a tutti ragazzi qui dal vostro diablo dex ecco qui cyberpunk versione xbox perché l'istinto mi ha detto sempre dal dall'inizio di prenderlo su xbox quindi il mio istinto come si dice non mi lascia mai a piedi no quindi allora questo qui vabbè la versione si può dire the one credo eccola qui in esclusiva dal gamestop o anche il fumetto con copertina rigida che poi vi sfoglierò quindi iniziamo ad aprire il gioco prima ecco non ho portato le ce l'ho fatta non non sono servite le mitiche forbici di brado brado mani di forbice quindi troviamo il cielo far mettiamolo lì ed ecco qui il gioco ragazzi confezione bella qua ma andiamo a vedere un po contiene un po di robina qui contiene un po di robina di codici che non vi farò vedere neanche se mi pagano ecco qui dobbiamo togliere il sigillo vedete gioco ok tanto lo installerò domani ragazzi gioco perché sto registrando questo unboxing in pratica che sono le due tre meno 20 di notte quindi vi ho detto tutto insomma quindi installerò domani perché comunque allora vediamo se non ci sono dlc qui allora innanzitutto dovrebbero essere due blu ray innanzitutto vi faccio vedere la cover da vicino la cover da vicino eccola qui non so quanti giga ah c'è la cover reversibile ragazzi attenzione attenzione cover reversibile cover reversibile questo non me lo aspettavo sinceramente questo non me lo aspettavo ma è stata una bella sorpresa è stata veramente una bella sorpresa allora come dicevo sono due blu ray da installare credo perché disco 1 lo faccio vedere ecco qui disco 1 sapete leggere no disco 1 e poi giustamente disco 2 vedete sempre lì ottimo disco 1 il disco 2 quindi vi metto uno affianco all'altro per farvi vedere quanto è bello ecco qui disco 1 e disco 2 possiamo rimettere dentro la cover perché abbiamo un po di robina da far vedere abbiamo un po di robina come seversibile non me lo aspettavo allora qui cosa abbiamo non abbiamo nessun codice fogliettino tutto giallo ragazzi tutto giallo mi piace questo colore mi calva di garba molto qui c'è un po di merchandising diciamo ok e qualche adesivo qualche adesivo di cyberpunk possiamo rimettere tutto dentro la mitica confezione così passiamo ai contenuti che qui sembrerebbe un unboxing un po breve ma purtroppo non sarà così spero di riuscire a metterlo in nottata ragazzi perché veramente tardino compendio sul mondo di gioco che questo qui era della confezione sfogliamolo magari vediamo se c'è vediamo se c'è qualcosa vabbè senza che lo sfoglio tanto ragazzi tutto in bianco e nero quindi alla fine lo sfogliato non tutto ma vabbè c'era poco e nulla da vedere è ok poi troviamo credo che sia una mappa di gioco ecco la mappa di gioco credo che sia perché credo che sia la mappa che noi adesso andremo subito ad aprire io amo anzi qui la mappa enorme di gioco ma stiamo scherzando cioè c'è guardate che robina si vede si vede bene si vede vabbè ok questa mappa di gioco santo domingo ragazzi dietro non abbiamo nulla è tutto bianco inutile far vedere e ce ne andiamo tutti a santo domingo offro io offro io nel gioco non nella realtà poi qui abbiamo un set sicuramente di cartoline vediamo un po dobbiamo sfilarlo questo dove non vedete cartoline che facciamo le facciamo vedere cartolina number one non ve le spedirò mai e sia chiaro non sono cartoline che spedirò gioco maestoso giustamente altra cartolina ora farò un trucco no non è un trucchettino farò la genialata per sperando di rinfilare tutto per bene e tiriamo fuori quest'altra ecco ultima cartolina ne sono tre ragazzi ne sono tre questa più bella secondo me forse che ha tutto questo sfondo rosso e così via allora sì adesso non ci sono più contenuti da vedere tranne il fumetto che è in esclusiva per chi prenotava il gioco da game stop ragazzi quindi il fumetto con copertina rigida hanno bussato apriamo una porta quindi allora fumetto con copertina rigida dicevo a posto il disegno è questo possiamo chiudere l'unboxing è finito non è vero non è finito nulla non è finito nulla non è finito un bel niente al mio fratello piacerebbe che finito un boxing così si metteva subito a giocare su code ma non sarà così dovrà soffrire allora vedete un po lo sfogliamo tutto questo 99 pagine no sto scherzando non di meno lo sfogliamo tutto perché è giusto così è giusto così perché è giusto così bene tiriamo fuori tutto il mondo tiriamo fuori il mondo ragazzi tiriamo veramente fuori il mondo qui ma questo è un giocone cyberpunk veramente ora devo trovare solo il tempo di giocarlo e il problema è questo non è avere il gioco il problema è trovare ora il tempo di giocarlo perché questo non è fortuna e te lo dico subito allora non è né fornite né apex legend quindi bel fumettino eccolo qui domani installerò il gioco ci vorranno 96 ore no scherzo non ci vorranno 96 ore ma neanche ci vorrà poco insomma ecco bello il fumetto comunque ho già lo sfogliato prima però adesso non sto rispondendo per voi e io amo queste cose poi games ho fatto un'esclusiva veramente solo per chi prenotava la games dopo questo fumetto con copertina rigida faccio rivedere faccio risentire più che altro bello è molto 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 bello se volete leggerlo mettete in pausa il video lo leggete anche tutto italiano tutto in italiano ragazzi abbiamo quasi finito quasi finito poi vi ripasso tutto il materiale sotto mano di quello che uscito della confezione poi chiudiamo l'unboxing e spero che vi sia piaciuto sono un po stanchino perché oggi è stata una giornata impegnativa come sempre però sono un po stanchino ma tranquilli non andrò a dormire se non piazzo l'unboxing sul canale quindi anche a costo di fare le sei di mattina tranquilli che l'unboxing abbia un po più cellulare più qua così ok il gatto che tende di aprire la porta io il gatto con gli stivali a casa e sia chiaro che il gatto con gli stivali infatti lui salta il rumore che sentite il mio gatto che tende di aprire la porta perché lui sa aprire la porta se non chiudeva chiave era già qui dentro allora vediamo un attimino vedete che bello ora ho spugliato tutta la fine ma anche l'anno 6 7 pagine forse neanche forse neanche ora non chiedetemi perché non ho preso la collection e la collector ragazzi perché la collector ho avuto delle spese xbox play station 5 quindi credo che non devo spiegarvi nulla credo che non devo spiegarvi nulla troviamo un po fuci abbiamo fatta siamo alla fine quasi e oltre che alla fine siamo la frutta problema ecco questa è l'ultima immagine purtroppo e poi tutto giallo quindi ripercorriamo tutto quello che è uscito nella confezione più bonus game stop allora nella confezione cyberpunk che era questa hanno rotto il day one perché sarebbe uscire oggi che 10 perché oramai è passata la mezzanotte quindi sono quasi tre di notte 10 ragazzi quindi cartoncino ok questo gioco riapriamo dentro vi faccio rivedere i due blu ray sono magari alcuni dicono ma non è vero ma io lo faccio rivedere ok adesso vi spacchiamo ok ecco qui due blu ray che ripeto installerò domani ok copertina reversibile comunque avete vista prima adesivi poi c'era il poster il convendio sul mondo di gioco questo giubbino ragazzi mi piacerebbe averlo e tre cartoline che avete visto prima quindi non sto qui a risfogliare perché ecco qua mi piaccio tutto qui così magari fai una ripresa come si deve fare una ripresa non chiedermi non faccia ecco qui è questo ragazzi del bonus game stop il fumetto in copertina hanno bussato chi è nessuno ok bene quindi urlo anche a quest'ora non mi interessa quindi questo è nel bonus game stop ragazzi il vostro avvicina un po di più magari così fai vedere bene no che pensi solo a giocare a call of duty bene basta così non ti agitare ragazzi il vostro diabotex vi saluta vi do appuntamento con i prossimi gameplay unboxing e tutto il resto ciao a tutti e alla prossima sempre rock and roll con cyberpunk ciao rock and roll 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 Grazie a tutti.